Un pluri pregiudicato 46enne di nocera inferiore residente a Torre Annunziata è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. L'uomo già conosciuto per precedenti episodi di contrabbando è stato trovato con un carico di quasi 500 chilogrammi di sigarette di contrabbando che è stato sequestrato. L'operazione è stata condotta dai baschi verdi del gruppo pronto impiego che mentre transitavano nel quartiere Vomero in via Cilea durante la costante attività di prevenzione generale di controllo economico del territorio hanno notato un furgone procedere ad alta velocità. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia e alla conseguente ispezione del veicolo commerciale è stato scoperto nel vano sistemato in diversi teli di plastica di colore nero il carico di bionde di contrabbando del tipo chip white costituito da 342 chilogrammi di sigarette marchio regina rosse e 150 chilogrammi di regina blu. Il contrabbandiere è stato processato con rito direttissimo e condannato alla pena di due anni di reclusione.